A tutti gli amici di Circo News, il mio cuore, il mio cuore che batte per voi, ma anche il vostro deve battere per me. Felicità! Felicità? Sì, è un cittadino, non è un cittadino, non è un cittadino. Pensate che stanno arrivando in reuni? Sì, certo. E chi è il dobbiamo? Si chiama Kid Bauer. Ma chiamiamo chi? E lo vuoi? Se ci sbrighiamo, ho fretta. D'accordo. Kid Bauer o Boer? Ecco, Kid Bauer. E qui può applaudire un genio di 60 minuti, M. Kid Bauer.